No, Giuliano, Luciano, Giuliano, 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 Giuliano! Oh, Ramona, stai fermo. No, arriva. Come andarono tutto? Sì, però, e poi scorsi poi in tutto stesso. Guarda, chi c'era stavolta? Ho visto la stavolta. Tutta la stavolta, guarda, non c'è sempre. Com'è papà? Ma poi c'è questa bottiglia per cosa... Cos'è papà? Ah, è bernacchia, papà, vai. Papà ci cade. Metti in posa, dai. In posa di combattimento. No, è piccolo. In casa, non dici una valeria. Rilassi il dedo, lì c'è del volo. E se volizzi. C'è una di seguitare il biglio? Che non ci faccia. Vedere. Vedere. Vedere, non vedere. Questa è la tefore, tiene una specie di... È riscritta la sua? Non va, era ora. Non ci va. Per niente. Allora, sentiamo inizio. Bene. Meglio da dire qua davanti, no? Non lo si immagina. Ah, ah. Riprendimi bene, Peppi. Così conquistiamo la valtellina. Vincere. Se devi conquistare ormai vittorio. Io ho paura. 50. 50. Quello che è fatto è fatto. Diceva quello. Che ha avuto, ha avuto. E chi è andato, ha avuto. E chi è andato, ha avuto. O no? Una persona... Che ha avuto, ha avuto, ha avuto. Uno ha 50 anni. Ti ricordi può vivere. Ti ricordi? Ti ricordi? No? Senti, Maria Antonietta, la sua mia storia, che non va giù con Ciao De Rizzi. Ok. Hai 50 anni. Senti, Peppi. Che ti fa? Vieni, piccolino. Ferma, una porcaria. Non posso chiacchierare. Vieni, piccolino, vieni. Questo senore sta tutto registrato e non posso... No. Dio tanto. Adesso l'ho già stato 6 anni. queste pizze le buttiamo guarda, guarda, guarda guarda, 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 guarda guarda, 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 guarda guarda, 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 guarda guarda, 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 guard Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.